perché non so se scrivere, non so se legge. Adesso mi sono mandato. Adesso è mentato. Non mi andava qui, non mi andava a me. Sì, sono più ignorante, però poi mi faccio capire. Non ho capito, poi c'è il cervello, il cervello. Ma come lo sai? Tutti non c'hai il cervello. No, io non ho detto, ho pochi soffritti. Tu lo hai il cervello? Bravo. Eh, poi mi riesci un po' a trovare, stasera accadendo. Eh, poi faccio le casseglie, faccio le case, la ruotata. Eh, perché tu non sei buono. Io a Napoli, posso sapere quando voglio e quando dico io a Napoli. Ma a Napoli? A che parte è Napoli? Io vengo con una pallonetta, vengo. Vieni. Stamattina c'è stato il pallonetto, sapete? Stamattina c'è stato il pallonetto, sapete? Stamattina c'è paccheggiatta la macchina, non c'è la ruota, non c'è la ruota, non c'è la ruota, non c'è la ruota, non c'è la ruota. Eh, perché mi ha bussato Napoli? No, io non puoi se bussò. Mi ha voluto bussò? No. E perché mi ha bussato? È perché, scusò. È scusò, io sono tu andato. Ma a Napoli ci può, ma a Napoli ci può. Stai già su perché? Sì. Allora è meglio che non parliamo. Parliamo. Buona, ho tu mi Instagram, dà esportato non mai, dà esportato non mai. Com'è sei, dà esportato non mai. Dà esportato non mai. Dà esportato non mai, dà esportato non mai. Dà esportato non mai, dà esportato non mai, dà esportato non mai. Dà esportato non mai, dà esportato non mai. Dà esportato non mai. Dà esportato non mai. Dà esportato non mai, dà esportato non mai. Dà esportato non mai, dà esportato non mai, dà esportato non mai. ha questo? Ha questo. E' questo. E' la cucina. e' la vota su casa. Fale un parello. E' questa? Quando è isto? Papà? E' il papà non è che? C'è acqua l' matched. Ah, Tight? E' quello acqua l' matched? E' un oldio, io poi puro dicenze se non devo andare a andare a quedarlo. Facciamo il fatto così, se vuoi essere acqua. Come si muove a cucchiarella, o che amacchiamo qua con le cucchiarelli. e non avrei mai fatto con me più. Comunque oggi sono stato colore di voi. Sono fatta a tre di risa. Sarò tutto a Dio. Terzo? Il quarto è tu. Non siamo venuti perché abbiamo fatto tanto. Adesso non abbiamo mai bussato la porta. Guarda lì, capo. Guarda lì che sta facendo la signora Rita. Scusa, l'imbarcazione. Quando vengo a fare questa voce, vedi, sto venendo, sto venendo, scolini, sto metendo la benzina. Tu non hai fatto il calo, non hai fatto il pescino, padre. Adesso, capito o no? Sto vedi, sto vedi, sto vedi. Sto vedi, sto vedi. Sto vedi. Sto vedi, sto vedi. Sto vedi, sto scriviti. Non ci sono, no camo. Sì, sono venuto al lato tuo, sono venuto a tre signi, a tre veri. Ha già visto, ha già visto i sette signi. Eh, è bello peronare, è bello torreno, è bella terra. E' bello, è 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 bello. Buonasera, buonasera, buonasera. Di dove sei? Papus, come? Mi so guardare se te le, come di dove sei? Di dove sei te? E' una gioia, se io voglio, in a, come si chiama, in a, in a vici stradale. In a vici stradale. Abbraccio, voglio. Abbraccio, voglio. Abbraccio, voglio. Abbraccio. Grazie.